E' come quando ho riuscito con un clic e dobbiamo fare lo squilibrio, la fermo, non c'è un nemico. E' la stessa cosa, qui imparo a fare la squilibrio. Qui uno, diamo bene, ma se giro soltanto un certo sistema che è difficile, qui devo dividere l'angolo tra il suo corpo e la sua spada. Passo, abitura, fermo, fermo.